Ritengo che il Comitato per il controllo e la valutazione abbia un'importanza particolarmente significativa. Credo che l'attività del Comitato debba essere strettamente coerente con quella che è la sua funzione anche in base alle norme del regolamento. È un presidio importantissimo attraverso il quale si deve operare una verifica circa l'efficacia, l'attuazione e conseguentemente anche l'efficacia delle leggi e dei vari provvedimenti che vedono come protagonista la Regione dell'Umbra, in particolare l'Assemblea legislativa oltre che la Giunta regionale. Quindi un luogo dal quale si può sviluppare una costruttiva azione tesa a verificare l'efficacia concreta di quanto viene prodotto dall'Assemblea legislativa e dalla Regione nel suo complesso.